Una statistica non proprio entusiasmante è quella delle presenze ieri al corteo storico di apertura della 721esima perdonanza celestiniana, 15.000 contro le 20.000 dell'anno scorso. Un corteo ieri fatto sfilare velocemente, tanto che scattare una foto o fare un video per professionisti e turisti è stata un'impresa ardua. Per non parlare della speaker che in apertura di corteo a Piazza San Bernardino, più che indirizzare gonfaloni, rappresentanti istituzionali e figuranti, pareva ridarguirli per il disordine. De Fallianza a parte, ieri è stato il giorno più importante della perdonanza voluta da Papa Celestino V nel 1294, primo giubileo della storia, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, per la concessione dell'indulgenza plenaria a quante vi passano al di sotto sinceramente pentiti. Sarà possibile lucrare l'indulgenza a fine vespi di oggi, quando la Porta Santa verrà chiusa al termine della messa celebrata dall'Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi. Buongiorno, anche voi siete passati sotto la Porta Santa? Sì. È un'emozione? Sì, bellissimo. Da dove venite? Dall'Aquila. Ogni anno? Tutti gli anni, stiamo pensando di venire anche stasera. Ogni anno e quest'anno l'emozione è stata ancora più forte, siamo i genitori del Giovin Signore, ma a parte questo è proprio Papa Celestino che trasmette un'emozione grande, forte. e non c'è anno in cui non possiamo non replicare questo messaggio che lui trasmette.